La verità non esiste in una lingua più difficile del mondo Naturalmente pensi, ma la grammatica? Ma la grammatica è solo una spiazione di una lingua E magari dici, eh, la vocabolario Ma, ok, l'arabo ha 12 milioni di parole Ma non significa che devi sapere tutti questi milioni di parole a parlare una lingua Perché in quasi tutte le lingue solo devi sapere due mille e tre mille parole a parlare frequentemente Dammi darti un esempio Immagini che hai un uomo cinese e un uomo arabe Chi pensi possono imparare la giapponese più veloce? Ovviamente il cinese Perché il cinese è più simile alla giapponese Allora, la difficoltà di una lingua è solo relativa La scuola di una lingua è solo relativa